Ciao a tutti Ciao a tutti Benvenuti in questa live Prima volta live a mezzanotte Ma Una live Offline Dove giocherò offline perchè mi è scaduto il PSN E non mi sono ancora arrivati i soldi Quindi in poche parole non posso ancora Fare un cazzo Però vabbè Allora io comunque andiamo avanti lo stesso Andiamo un po' Aspettate un momento Allora io la migigrante abbiamo sconfitto Quindi il nostro obiettivo è Adesso si procede alla bagliata Allora io la migigrante Ok Già è vero che i giochi ci siamo Armonizza Ehi Ciao Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Comunque questo qua E' l'aspetto da umano del personaggio Non so se tu hai mai visto il film Trainspotting Però questo è la somiglia Cioè sembra troppo quel personaggio Ciao Hai amato? Comunque Non avrò Non avrò Inter Cioè non potrò giocare E contro qualcun altro Perché mi è andato a puttane il Non c'è più PSN Come ti avevo detto Mi è scaduto Quindi non potrò fare più Più con nessuno Quindi sarà Molto molto interessante Vediamo un po' Proviamolo Sternamente Lo pensavo anche io Invece Devi per forza avere Il plus Perché per un paio di giorni Mi chiedeva sempre Plus 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 Finché poi non te l'ha rimosso Non ho capito Sta cosa E' strana La stessa mazza E' bella Che Quasi sostituibile Anzi Già che ci sono Mi è venuta un'idea Un'idea assai Malsana Ma che potrà portarci Nella retta via Un'idea malsana Molto malsana Ma voglio farla Perché se voglio uccidere Questo pezzo Di mierda Ah sta Non potrò più giocare online Su DSR Pensa che ci sono tornato ieri Su quel gioco Ma me ne era tornato la voglia Vabbè Meglio Così perché Mi sto concentrando L'altro Fai bene va Io te lo dico Quando avrò i Quando avrò i soldi Entra A parte comunque oggi Partiva ancora Ma ti avevo detto di no Non solo perché Andava ma anche più che altro Perché stavo facendo già la partitella Con un mio amico E non volevo perdere La connessione insieme Lui era in un plus 8 Io ero in un plus 2 Immagina un po' te Bestemmevamo come non so cosa Per andare avanti Nel gioco Cazzo Bravo Il mio amico Il mio amico Il mio amico Ma quanto cazzo Debra questa arma È un più 7 È un più 7 Dai su Bene Non ho bastato abbastanza volume Qui corriamo Prendiamo Prendiamo qualche oggettino Il mio obiettivo In questo momento È la spada del sole Nient'altro Dai aia Quindi poi Quelli da sopra Che tirano Il coso Italismo di Lloyd Porca puttana C'è una mia Della madonna Mi sono chiuso Mi sono chiuso Mi sono chiuso Mi sono chiuso No non mi sono chiuso Io sono Mech il solitario Mech l'agile Il Mech al 13 A fortuna Parliamone Ma sì Ci ho provato Ma chi è che mi spara adesso Allora Dai su Vieni qua Abbiamo capito Ora Ancora vivo sei Cazzo mi dai Comunque a questo 13 A fortuna Sta andando un po' Troppo Puttana Mi invitavo Comunque qua Masca del sole Posso potenzionare Altra con la mente Normalmente Parte che comunque Tuo amico mio Se vuoi dire Dove sono Bene Saperlo Che è bello Sapere che non ce l'ho Impriega quanto io Sia dannatamente Indietro Sì 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 Vengo dopo Aia 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 Sì Certo Però Cazzo Hai rotto il cazzo Come cazzo Devo dire Che hai rotto il cazzo Allora 60 minuti Pugnale Il 13 a fortuna Funziona A caso Funziona In che senso Mi hai detto che Lavoro il giovedì prossimo Non lavoro mica Questo giovedì No Volevo farlo Non avevo voglia Di farlo Presto Non so Non avevo voglia Di farlo Perché Perché mi ero Mezzotormentato E la voglia Non c'era In quel momento Perché Ho dormito poco Ma che è stata Dormito abbastanza Circa In realtà Sto facendo questa zona Solo per pigliare La spada del sole Non è che Devo andare di qua Te lo dico Per sicurezza Però Lo scelto troppo Perché sono Un pezzo di merda Bravo bravo Corri dove non Dovresti andare Bravo bravo Sono un master In queste cose A schivare Ok Saravate Dove dove arrivare Quanti Eh ma Tosta Grafica Non c'ho mai Un momento Un minuto Il sole Schifo Oh ma che figlio Che ci fanno vedere Che da quel piede Uscirà Tipo la merte Figo La proiettiva Tutto attivo Perché sono Un bravo Che pensavo Che non Comunque come sai Luca Sì comunque Alla fine Per il gioco Devo aspettare Lunedì Se mi butto Così normalmente Ah Uh Io scherzavo Ah Abbiamo ammazzati No vabbè Che figata Sì Ovviamente Martedì Se va bene A te Perché Perché Mercoledì Giovedì Ma mia Devo essere In pizzeria Dammela 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 Via Mia Ma Anche tu Sei mia Quindi Andiamo a potenziarci Ok 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 Questa è una delle nostre arme Definitive Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa serve Per quest'arma Come scusa Come scusa Cioè io Cioè io sono Vabbè Vabbè Dove lo Dove lo Dove lo Dove lo Ho capito Ma che due Coglioni Beh se Però almeno Mettiamo in circo Ma dai ma pensavo di fare qualcosa di divertente Volevo proprio distruggere, disintegrarlo Noi C'è un po' Che è un po' Che è un po' Che sono solo in questo momento Sono solo Sono solo Sono tanto solo Sono tanto solo Ora c'è un po' Questa è un po' Non c'è un senso sta cosa Perché si chiama Mecli solidario Penso che non riuscirò mai a sconfiggere Gundyr Però se ho potuto porto Al più 4 l'arma Ce la faremo Ma C'è un problema Forse che domani mattina se mi sveglio presto Faccio la live E voglio concluderla Perché sono già il sesto Eeeh E un po' 81 26 26 va bene 24 va bene Vigore Mamma mia Basso sto vigore Forza 14 Destrezzo 13 Fede 40 Deve portarla a 45 la fede E' la nostra prima priorità Se la portiamo a 45 Potremmo usare tutti i tipi di magie Bla 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 Cazzi e mazzi Proprio questo lo devo togliere Perché non mi sembra Potenza Questo c'è potenza naturalmente Questo no Cioè questo si Ma questo qua Potenza di più Quindi fa un culo Quindi fa tanti da Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Quanto danno fa Oh E' forte E' sta arma Oh spero che arrivano domani i soldi Perché io non voglio giocare offline C'è una mazza Potevano metterla un po' più su Ma 5 Pezzi di tenite E vabbè ma Ho fatto un saltellino Cristo Non dovete diventare In questo momento E' pigliare i pezzi di tenite Poi pensiamo Al resto Aia Ho paura Beh io della resina umana A me ce ne faccio Un cazzo Però Meglio avercela No Vediamo che la settima live Faremo Sia La Sia i Sia la mazza draghi E sia i Sia la mazza draghi Sia i pezzi di gemelli E il boss finale Quindi Questo qui sarebbe In realtà Sto facendo questa qui Che è la sesta Cioè io praticamente Ho finito il gioco In In 6 live 7 live Vado a dire E' così poco 7 live Sono contento Oggi facciamo La parte un po' Più oscura Del gioco Beh Goon dir Non è Cioè Lo faccio solamente Per Le sky Titanite Quindi il resto Non mi serve Niente Che poi Questa qui Non so Se posso No Non posso Però lui Si Non so Come mi ha Sentito Ma va bene Quegli agiti Non li piglio Tanto so Già Che cosa sono Ah Quando sai Le cose Yeah Aiuto Aiuto Non guardatemi Non toccatemi Non fissatemi Non guardatemi A questa cosa Di fissatemi Cazzo Dico E' Quando si fa Le live A quest'ora Vieni Vieni Sì Sì Vabbè Ma Che un calcio Mi faccio Questo danno Cazzo 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 Oh mia bella madonnina Che tu brilli da lontano Ah sai che non possiamo più giocare insieme Il PSN mi è scaduto Quindi in questo momento sto giocando offline Bella la vita Sembra fatta per te Se domani Guarda ho 13 a fortuna Se domani mi arrivano i soldi Automaticamente mi li piglia E si Se potessi giocare anche senza Il plus invece no Hai dei giorni in più Ti dicono A festa e sore Potresti metterti i soldi Io Va bene hai un po' di giorni E sono tipo come quelli la che ti vengono a chiedere il pizzo Idem Beh dai la cosa positiva è che non sarò invato da nessuno La cosa negativa è che avrò problemi con certi boss adesso Tu mi hai rotto il cazzo Esattamente Sono andato a PM a sparare il sole Qualcuno poteva dirmelo che quel cazzo di arma scalare Devi usare le teneci di lanti Così almeno non potenziavo C'è il martello di morna Che tanto Aspetta un momento Vedo un momento se posso usarlo a caso Ma non credo Con 14 a forza Come Scusa Va bene No 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 Con le anime lì Con le anime lì Ti prego troppo bello Ti chiedo solo questo No Ho capito che gioco è Il gioco di merda Se muoio sarebbe la terza morte Almeno le lave le posso fare Almeno quello Aia Almeno il gusto di fare le live 24 minuti Dammi l'armatura Hai nidi d'armatura Da poco Sì sono già arrivato qua praticamente 25 minuti Ho paura Jack Ho paura Ho una paura assurda Ho una paura assurda No Ah Dear little Ocelot Where have you gone? Are you hiding from me? Come out Come out Don't be afraid You were born a child of dragons What could you possibly fear? Now Now Ocelot Ocelot Meno male Quanto sei di anime Ah Quando povero Osseroth Osseroth che si deve beccare Per forza un chierico Va bene Lo sconfitto con 9 Dopo come poi abbiamo avuto il piacere di incontrare Magari potenziarsi di una fare per schifo Comunque sono un milione Ho iniziato da poco Bene bene Però sono sempre tante anime Si però io Devo potenziare la cazzo di Spade del sole Però Essendo che c'ho solamente Non c'ho manco una titanetta di scintillante Ma te ne rendi conto che cazzo devo fare Ma come non mi sono seduto Vabbè tanto farò qua Ciao Vabbè tanto Adesso andremo In un bel posto Chiamato Dio No Chiamato Vettaderci Drago Che mi darà un bel bonus Su tutto E via E finalmente possiamo portarci al più Al più 5 Si però c'è manca la data di titanite Via Via del drago E via Io avrei messo più tesori qua Sky titanite Due sky titanite lì Tre qua Pesi titanite lì Un'arma carina Da nuova Draconica Magari se si poteva Sai com'è? Prendere un po' il gioco più carino Da Direi Ok hai battuto questo boss Questo è il tuo premio Poi Oh madonna C'è un segreto E lì c'avrei un premio ancora più grosso Infatti sono L'ama del caos L'alabarda Il coso a spirale Spada spezzata a spirale Cioè Belle cosine Il mio problema adesso Oh mio dio pezzo Il mio problema è che io ho Gundy Adesso non lo mazzerò Ora mi 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 farmo un po' la roba qui Ma poi Ritorno indietro Perché quindi voglio ammazzare Questa spazone qua Ma bello potenziato Anche se adesso toglierò La roba che ho Che c'ho No Ma non me lo fai te per me Grazie Beh quello che Ho avuto questo culo È bellissimo Guarda Amica mia Ti ho avuto sbagliato Il tempismo Voi state lì Grazie Ok ragazzi Ora giocare Qui c'è Qui c'è E vabbè Vabbè che si attivano tutte e due Magia Dioco? Grazie Beh è verissimo i caneri sull'acqua Sul? O nel? Nell'acqua Non so più usare le parole Ah già è vero Ok Tanto se va bene Se di passo vado così Che ho quasi già Sono già arrivato a metà Cioè a A mezz'ora Se Se il troione qua non mi fa male Ovviamente Aspetta che devo Devo solamente prendere questo ultimo oggetto Rimani lì va Se il troione non mi fa male Se non mi fa tantissimo male Andiamo In live A quest'ora Oh god Eh non lo so Mi andava E mi andava Cioè ho dormito un pochino Quindi ho detto vabbè La faccio dopo perché ho mangiato Cioè volevo Non mangiare E mio padre mi ha detto Vieni a mangiare Ma io ho detto mio padre che andavo a dormire E questo è scemo il padre Allora quando gli dico una cosa E alla fine ho detto Ma si dai Mangiamo Però l'ho svogliato Sto andato in camera E' già l'ora Ma non ho voglia di fare la live Quindi ho deciso di Di farla un po' più Più tardi Quando stavo andando via di Dark Souls Ho detto Mica mi è venuta la voglia Di farla live Perché alla fine ho detto Ma si non la facciamo Tanto chi se ne frega Chi cazzo mi caga Allora Dunque ciao Ciao Uuuu Mi servono Quante abbiamo di Devevo controllare quante ne abbiamo di Di slot Così ha così Finito Fatto lui Così abbiamo un po' la zona Veniamo al coso spirale Che poi lo metteremo Per pigliarci La setanite Ehm E poi basta Allora quanto fai di AR? 4,25 Te 3,5 Ehm Ovvio così poco Te campana quanto sei? Più 5 Quanti ho? Frammenti ha Ok dopo devo potenziarti Vabbè comunque Da lamentato Beh Vabbè Danno è bello Sostanzioso Peccato che non posso farci un cozzo Quest'anno Se fosse stato infondibile era meglio E' benedetta Dato che comunque i nemici Gli scheletri Ehm Che possono Che sono tipo Risuscitabili una seconda volta Non No No Stavolta mi faccio aiutare Mi sono rotto il cazzo Stavolta il maestro lo chiamo Bravo maestro Facci vedere Chi cazzo sei Bevi pure Troione Ok Ci sei amore? Andiamo Non so se Vabbè iniziamo con questa Genera Racconta quanto è frustrante Allora Io penso che Che Il new game plus 8 Fatto da solo O fatto in compagnia E' la cosa più brutta Che abbia mai visto E' fatto Insieme a qualcuno Più che altro Frustrante Il fatto che comunque Il livello di difficoltà E' così elevato Che in due colpi Ti sciotta E chi è un fantasma E non ha tanta vita Ti sciotta solo E non è Vabbè Allora Che cazzo ho invocato io il coso Aspetta un momento Bravo Distrammelo Ok E' I principi gemelli Sono un cancro Della madonna Perché pensare Che quei Coglioni Fanno così male In un game plus 8 Mamma mia Che Lasciamo stare Pure Eh no Tu il mio maestro Spadacino Non me l'ammazzi C'è E' divertito Parliamone Mi ha Mi ha Mi ha Bloccato Bene E' Un Inc微 St Mi 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 No No Non ci credo 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 Uccidere basta ma così non ho capito che voglio Eh hai ragione Uccidere basta Eh ho detto che andava cazzaduro Andava cazzaduro porco due Non fare le cagatine mi ricordi di me quando lo dico Non fare le cagatine mi ricordi di me? Sì sì Io sono te Come si pronuncia il mio nome se tu sei me? E qual è il mio nome? No no Io lo sposacino lo evoco perché mi ha servito tantissimo Tutto Allora 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 Sì io vengo da un'altra dimensione Bravo Vieni qua stronzo Vieni qua Vieni qua Non andarti Sì Va bene ma male Ahhhh Però un'ottima scusa mi piace Qui tu sei Sei morto e ti sei incarnato in me Ahhhh Beh però Se io mi sono incarnato in te allora dovrei sapere il mio nome Come si pronuncia O qual è il mio nome Mamma mia Scambio di colpi Lo dimentichi quasi tutto quello nella vita Ah ok Ah che va bene Quando Enrico è morti sta storia Secondo te Che cazzo fai? Basta fermati Come così? Perché 59.000? Mi ha pensato un po' di più Vabbè Iniziamo in New Game Plus Ma no ok Questa volta la situazione l'avevo un po' presa di mano Ma perché prima mi ero confuso Ecco perché sono morto subito Non è vero è una scusa di merda Quanto muoio fra 1 e 10? Quanto muoio fra 1 e 10? Guarda lei tutti di dietro Corri ragazza laggiù PAPARA Guarda come vado lassù PAPARA Guarda Guarda Corri chiaricola giù PAPARA Lancia un miracolo lassù PAPARA Che non ha senso Con quanta leggerezza io vado in questa zona Senza preoccuparmi di poter morire in poco tempo L'albero del gigante è lì Quando c'è un cazzo di niente Quanto 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 sono dolci che provano ad attaccare ma non ce la fanno Le vai Ah cazzo Dai diamo agli occhi alla Piediamo agli occhi perché devo fare finale cattivo Fizz il nostro obiettivo Abbiamo il martello del fabbro Sapete questo che cosa vuol dire Che possiamo usarlo innanzitutto ma Che cosa fa? Come Weapon art Persistenza Martelli fanno persistenza Non fanno altro Non tutti però Siamo lì Che brutti sti occhi poverini Cioè brutti Un paio di occhi neri Così tranquillo Vediamo la prima guardiana del fuoco E' una luce Perduta da tutte le guardiane del fuoco successive Sperano le guardiane le cieche cose Cose che non dovrebbero mai vedere Wow che belle Spero ste chiavi Beh E' Che poti Sì Ah vero Andiamo a portare questo ooooh Quanto nel mio corpo Portalo Ah Guardiamo un po' come leggo da down leggo come un povero down e loro sono più bravi di me pensate un po' questo non cuore non cuore non cuore taci d'arte messi la 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 mi ragion questi due livelli mi ha detto sei proprio zocco però mi piace io oggi sono arrivato al livello 103 ma non riesco a battere altri c'è bello tosto però ti piacciono le granny genna non è vero schifo uuuu si sono una persona che sta posizionando tutti i martelli perchè perchè sono in una testa di ragazzo ma non ho ancora una titanita scintillante questo sapete cosa comporta? comporta che io sono una merda tutti i miracoli bene vendi 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 non ti porto più un cazzo stai zitto ciao no no ciao ah ah, terribile de quello non hai mai visto te roda nessun prossimo infatti ah, io non ho impariamo un po' di... mamma mia che cosa... il luce cura è tip i diri pristi è molti tip arma benedetta benedice l'arma testa quindi a un menù d'attacco oh my fucking god 1 2 barriera magica prendiamo questo si si arriva devo pigliare i guatti di morno mi sa che gli servono a questo donniciola quanto costa nei guanti di morno? 6.000 via diretti devo vendere qua io eh ok 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 cosa devi farcela però ci provo oh vabbè abbiamo questo cazzo che stavo facendo questo è che non mi serve non mi serve potenzialmente la prima azienda non mi serve non mi serve non mi serve perché tanto non ci faccio un cazzo te non lo so te non lo so devo pensarci te non mi serve te non mi serve avendo te avendo te così ho tutto quello che mi serve quindi vediamo un po' abbiamo questi guanti di morno sì 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 abbiamo completato tutto quello che dovevamo prendere per adesso perché mancherebbe ancora qualcos'altro sì 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 questi due ti avevamo già quindi non ci servono aspetta se metto i guanti un po' ok scherzavo allora io mi sono domicato il luogo dove la boss è di Smaug ma è una battuta o stessi dicendo che non sai dove non sai dove era lo compatimento con Smaug ma è un po' Stanislav Anor Lond erano schifo 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 anor Londo anor Londo schifo schifo avrò indicato si si hai giusto giusto erano notato a tuo anche non è che faccio male o o ma inizia a raccogliere tutti gli oggetti solo zona ma non so come arrivare all'entrata ma dove c'è Aldrich Quasi sono dei caballeri veramente fighi su ds1 e dove adesso Aldrich su ds3 mh jo che bello che sono da anni decente e e meno male meno meno male ma questo gran ca... ah titanini decintillante bene 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 pezzo pezzo muore muore bravo due titanini decintillante urna del fulmine che mi 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 ci bacio il culo ma il cd bicipulisco il culo vuol dire ah bene bene vai penso di tenitemi danno pure ma siamo seri eh capisco tutti questi vadano drop specifici eeeh ciao che bello con questo coltello mi staranno come se fossi nudo questa cosa non è che mi piace così tanto dai su ci ho provato io l'ho sempre detto che la fortuna è dalla mia parte si lo so sto ballando su personaggio è per esempio su fallout 3 mh che ha basso la fortuna come personaggio quindi ogni dialogo ha deve per forza avere come bene 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 sono contento tutto che bello di giocare a dark souls che bello sono contento di sta cosa si può da lunedì quando mi arriva al gioco ne ho due come si fa come si fa come si fa ho capito che è bello attaccare il 2 ma una volta tanto devo solamente fare una visitina non danno quando ti arriva il gioco io faccio ciao ciao con la manina e non mi vedi in live fino alla fine vabbè tranquillo no tanto farò così tante ore di live lì che se lo finisco subito porto subito bloodborne o se no porto bloodborne come inizio scendi guarda che fai tanto il figo vabbè no bloodborne arriva con io 2 lunedì non 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 meno non 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 13 a fortuna ah, qui trovo un sacco di pezzi di tinta e scintilla che mi serviranno tu basta ero tol cazzo allora come si dice buona fortuna giusto come scusami come scusami come scusami tre una ma dammene due già soddisfacente va bene ma cazzo c'è un bosco che ti tiene quattro di queste casse tu me tu mi metti due in uno in un altro metemi tre lì e uno lì dovrebbe andare più suddisfacente ti accompagci qua e nessuno ti vede braccia vabbè in realtà l'avevo 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 vabbè l'avevo stare va a fare un buro l'avevo abitare l'avevo a fare un buro oi è un po' una cosa niente, non funzionavano un cazzo pensavo che funzionasse c'è a me bu i danni sono giusti ma i danni certamente sbalano a casa se me dovrebbero dovrebbero scrivere proprio questo qua fatto danno no ah avrebbe un po' più senso aia vado a pia il tigono terzo è di tianite scintilante dimmi che così no allora mi ricordavo male si quando sono bisogno di qualcosa mi ricordo sempre male sette ne ho sette uno due quattro uno due quattro quindi si ce la faccio la porto al più tre così la porto al più tre così in quattro un quattro Buono. La femmina l'abbiamo ammazzata, ma mi manca solo il maschio. Quindi bastava colpire lì sulla gamba e morivano tutti e due. Cioè, sprechi meno, Manu. Non so se fai questa cosa così. Cioè, boh. E io che pensavo che boh mi bacio mostro. Va bene. Siete bravi. Allora. Basta, mi sono toccato il cazzo. Scusa, bene. Scusa, dove dobbiamo ammazzare te? Poi tocca a te. Va benissimo. Questo dovrebbe essere la sesta morte. In un'ora di live, sei morti, sono veramente poche. Mi hai capito comunque, Manu? Se stanno tutta la zona, e se vuoi tipo andare a raccogliere la spada del sole, se vai a colpire quella parte della gamba, cioè, gli fai uccidere facilmente, secondo me. Poi boh, ognuno fa come vuole, rimanere dieci minuti a sparare le frecce o... Oh, a cazzo duro. Dritto. Ci ha preso a gusto, Joe. Bravo. Così che ti voglio. Più partecipante. Tanto, cos'è finito. Prima vado a pigliare le mie anime, perché sono stupido. Sono 60.000 anime. Ci farò solo un livello, ma... Io ci tengo alle mie anime. Sinceramente non ho voglia di rischiare di prendermi una fiammata in faccia. Ma... In realtà, se tu corri e non pensi alla fiammata, ci arrivi senza problemi. Mi è andato a posto che tu scrivi, tanto la fila non ti pigli la fiammata, ti pigli i fiammelle per terra. Come scusami? La volta è duro quando è baffato, immagina... Immagino che... Perchè? Perchè il fratello sì e la sorella no? Perchè il fratello di merda sì e la sorella no? Eh? È gioco di merda? Eh? 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 Dimmelo. Dimmelo. Perchè tua sorella Reda lì no e tu sì? Cioè, cos'hai di speciale te? Te lo dici a fortuna? Va a scassare. Perchè questa cardistica è così alta già all'inizio del gioco. Alta, parliamone. Però mi chiede. 13 a fortuna. E darti lo spadone dell'Otrick. Aiuto. Aiuto. E vabbè, ma quanto cazzo vuoi andare avanti, eh? Aiuto. Non so perché dovevano farci il giro. Cos'era? Cos'era? E' lo del cavaliere, ma? Guarda un po'. Proviamo a sconfiggere tanto. È bello che non possiamo buttargli il fulmine perché è un cazzo di cosa che usa il fulmine. Oh, io me li abbiamo fatti oggi insieme, per esempio. Vabbè, quindi in tipo un'oretta di live si è riuscito a fatti due milioni. Uh, cazzo, posso... Posso farmare i medaglioni del sole qua e denarli qui. Ok. Non devo pigliarmi lanciano maggiorata. Tanto siamo arrivati a fine gioco. Che dobbiamo... Beh, però comunque almeno altro ferro piglia, forse. Però... No, 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 me ne mancano ancora, però. Però... Però, 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 però... Allure... Siamo soli, malaccompagnati. Andiamo un po'. bebe 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 è la prima volta che lo vedo così tanto violento e beh bebe bebek bebe i cavallieri mi davano circa magnacomare amore per togliere sto cazzo di vacuitare madonna madonna ho paura ultima morte della life madonna e con quelle 8 milioni di anime potevi farti i livelli a random tantissimi livelli 79 mila anime quasi 89 mila poi qui mi metterò a farmare a migliorare il sole e così mi prendo la bella armina da bene a 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 avuto senso con 2 milioni di anni mi sono tenuti livelli mi sono fatto ora se mettere neanche 2 a 2 4 scusami 2 bene very well then touch so so che dici eh no a se non bastano solo questi che cazzo mi fai anchino bastarda? quindi al posto di questo io posso usare questo questo è un po' oh ma sei serio? vabbè un livello lo facciamo adesso in stamina in vigore vabbè vabbè capisci perché uno si rompe il cazzo a forma eh si capisco vabbè 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 la greta non mi sa che un cazzo vabbè quanti miracoli puttana 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 cioè tre scudi bellissimi simili tra loro ma diversi nel design non non so se sei riuscito a fare mille anime con la casa ma si 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 che belle mazze non potevo fare un paio di carina no tanto che le usa le mazze non lo so io magari non lo so io magari ma vabbè adesso facciamo così posto di questo ci mettiamo facciamo mettere questo poi ci mettiamo questo non è servita una beata minchia posso anche toglierlo quindi ci mettiamo quindi ci mettiamo e di nuovo questo vabbè ragazzuoli io domani non so se andremo avanti se si vedremo però siamo arrivati alle battute finale del gioco e quindi mi avrò 600.000 anni madonna quindi ragazzi vi ringrazio è stato un piacere ci vediamo domani e e e niente a tutti grazie ancora per chi è stato e niente praise the sauce grazie a tutti grazie a tutti